ciao ciao questa quasi quasi la tengo e signori buongiorno e bentornati sul canale del master che ha io sono il master che ha il vostro ospite su questo canale e questa settimana abbiamo due ospiti di eccezione perché dobbiamo parlare di qualcosa ma lascio che siano loro a presentarsi mauro sorpresa eccomi allora ci conosciamo già su questo canale sono venuto a fare un'incursione qualche mese fa io sono mauro longo ho anch'io un piccolo canale che parla di giochi di ruolo e di libro game che scrivi la tua avventura e questo nome questo titolo potrebbe richiamarvi qualcosa perché parleremo un po di questo esatto esatto in particolare cosa faccio nella vita io di lavoro sembra sembra assurdo ma è così di lavoro faccio il game designer il developer di giochi di ruolo e di libro game autore scrittore ma anche curatore editoriale per molti libro game lo faccio da una decina d'anni e basta in questo momento non voglio spoilerare altro e invece per malaspina che abbiamo chiamato dentro questa banda patetica che abbiamo formato ok sì io sono invece nuova del canale e io scrivo storia del fantastico e lavoro come grafico illustratrice e ho collaborato con alcuni alcune idee per brancalonia e oltre ad aver scritto un libro game esatto esatto ti completo io cara 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 mala il libro game si chiama gremlins ad alta quota il primo che è uscito nella collana zaira di hackeron per brancalonia realizzato un'avventura poi fatto dei racconti che sono usciti prima in precedenza e così tra l'altro ero anche in zappa e spada quindi bene o male ogni tanto spunto fuori abbiamo dovuto chiamare qualcuno per non sembrare proprio una banda di reglietti dobbiamo darci un tono e questa è la funzione di pala ok siamo qui questa settimana perché gli annunci li avete visti ma adesso per luca uscirà scrivi la tua avventura che il secondo di una serie che abbiamo scritto io e mauro e ha collaborato anche malaspina e dato che sono arrivate un sacco di domande sul libro abbiamo deciso che è meglio fare direttamente un video in cui rispondiamo alle domande così non dobbiamo stare a correre dietro la gente sui social allora la prima cosa perché è quello che hanno chiesto tutti si sarà disponibile il preordine troverete i link qua sotto in descrizione e se tutto va bene dovremmo già avere le prime copie disponibili direttamente per il luca comics di quest'anno quindi può darsi per adesso non possiamo assicurarlo ma può darsi che se fate il preordine e sarete il luca riusciremo a consegnarvi direttamente a mano le prime copie se no poi bisognerà organizzarsi con le spedizioni più avanti questa è la prima cosa perché so che metà di quelli che stanno guardando questo video erano qua per questa domanda ora salutiamo quelli che adesso se ne andranno perché hanno la risposta e passiamo con le cose per cercare di darsi un tono e quello che hanno chiesto di più di tutti è ok ma di cosa parlate in questo libro a questo punto mauro te che dovresti essere quello esperto designer gran loop man del gioco di ruolo home the pie del gioco di ruolo e allora intanto intanto è bello bello diciamo fare questa cosa nel futuro e nel passato con una specie di time warp no su questo video perché le domande sono già arrivate ed è vero dal gruppo facebook dai dal canale dai nostri due canali però è vero che nel momento in cui esce questo video se non ce l'abbiamo il libro è grave ecco mettiamola così diciamo che dovremmo già averlo è già in preordine tutto quanto infatti noi siamo in maglietta come non potrebbe essere trasmesso o abbiamo il libro o siamo scappati esatto esatto diciamo che siamo in maglietta quindi questo ci fa capire in che periodo dell'anno stiamo registrando e allora il libro è si chiama scrivi la tua avventura è il secondo come dicevi giustamente roberto di una mini serie nel senso che ce n'è un altro prima ovviamente che è stato scritto da me sempre con con malaspina e con l'aiuto anche di matteo poropat che non c'è in questo secondo volume perché il primo volume parla di libro game quindi della scrittura di libro game storia bivi e così via sia io appunto che che malaspina che matteo eravamo siamo eravamo del settore ne abbiamo scritti qualcuno matteo ha scritto un grande un programma che si usa su questa cosa qui e quindi quello era sui libro game avevo in mente diciamo è così ti ho coinvolto diciamo un anno fa all'incirca ormai un anno per scrivere un secondo volume che parlasse che parli di di gioco di ruolo quindi diciamo il sottotitolo di questo volume che comunque può essere acquistato e letto assolutamente diciamo da solo non c'è bisogno di leggere quello prima che riguarda il libro game questo qui parla dal dal gioco di dai giochi di ruolo alle avventure in solitario quindi c'è comunque un richiamo nella parte finale anche a dei temi del primo volume ma soprattutto parliamo del gioco di ruolo quindi parliamo di come si che cos'è il gioco di ruolo in generale i primi capitoli sono un po' un introduzione per chi non non ha non è completamente diciamo come noi che cercano dentro da piccolo tipo obelix nel calderone del gioco di ruolo c'è gente da fuori che ha una vita o almeno così mi dicono io francamente perché ha una vita e vuole rinunciarci entrando in questo mondo i primi due capitoli parlano appunto di dell'inquadramento generale di così il gioco di ruolo e poi si entra nel pratico del manuale quindi come come ideare come come gettare le basi del proprio progetto fin dall'inizio ma poi come si scende nel pratico della creazione di regolamenti ambientazione scenari quindi diciamo moduli di gioco quest avventure chiamiamoli le chiamiamo in tanti modi soprattutto poi si parla anche del bestiario si parla anche dei trucchi di cose particolari insomma ci sono un po di diritte comunque come si scrive come si progetta idea progetta e realizza poi un gioco di ruolo sia da pubblicare che anche per tenerselo per giocarci con gli amici semplicemente questa è una cosa che perché anche qua a me sono arrivato le domande il libro lo abbiamo scritto assieme e mauro è un professionista io tecnicamente sono solamente un master abbiamo voluto mantenere proprio una linea in perché per fare in modo che il libro parli sia per chi ha intenzione di pubblicare un gioco di ruolo in maniera professionale ma anche per chi vuole semplicemente giocare cioè la maggior parte dei capitoli contengono poi delle dritte le abbiamo chiamate così anche per chi semplicemente è master indipendente c'è un gruppo di gioco c'è un'associazione comunque lo fa in maniera amatoriale appunto per fare in modo che chiunque possa giocare al gioco di ruolo a buon livello ovviamente chi lo vuol fare in maniera professionale troverà un sacco di robe tecniche ma chi invece non è interessato a pubblicare il proprio gioco di ruolo ma e questo dobbiamo dirlo perché abbiamo un'intera sezione dedicata a quello che è war building e quest building cioè tutto tutto quello che non è regole come si crea un mondo per il gioco di ruolo e come si creano le avventure poi all'interno di questo mondo che in realtà sono il 90 per cento del lavoro di immagino la maggior parte di voi che state guardando il video cioè il master che deve masterare per il suo gruppo di amici e metà del libro è dedicato a quello diciamolo non voglio dare l'idea che il progetto sia una cosa esoterica fatta solamente per i professionisti cosa del genere esatto no ma poi aggiungo anche che tra il game master l'appassionato che si vuole creare diciamo la propria ambientazione o la propria avventura del venerdì sera come abbiamo detto nel manuale più poco come la chiamiamo più volte nel manuale è l'autore professionista che pubblica manuali di 400 pagine per di lex arcano di dnd quello che vi pare c'è tutta una serie di sfumature intermedie che vanno per esempio dal print on demand su lulu o su amazon dal scrivere contenuti in digitale per drive through rpg o per la gdm guild che è sempre diciamo lo stesso concetto per pubblicare sul proprio blog gratuitamente o sui ciaio dei dei contenuti e così via per scrivere delle avventure sui regolamenti che già esistono e mandarli alle case editrici perché così le quasi di molto spesso le case editrici anche adottano avventure mandate da da fan che si dimostrano molto bravi quindi diciamo c'è una gamma amplissima di sfumature e noi diciamo cerchiamo di coprirle tutte in generale più o meno male tu che per adesso sei rimasta silenziosa ma ecco lei ci ha aiutato diciamo è quella che ha fatto da supervisione al progetto ed è quella che ci ha tenuto buoni con le redini sì per il libro adesso non abbiamo ancora un numero di pagine definitivo sarà bello grosso abbiamo dovuto limitarci in alcuni punti perché se avessimo pubblicato tutto quello che avessimo effettivamente scritto diventava letteralmente materiale da costruzione non opera editoriale e non volevamo far limitare cioè a quel punto abbiamo cominciato a diventare eccessivamente costoso anche da vendere abbiamo voluto tenerlo relativamente economico il primo no dicevo il mio il mio compito è più che altro è quello di mettere di riuscire a mettere in forma facilmente leggibile usufruibile tutta la grande in tutto il grande quantitativo di materiale che avete prodotto e metterlo anche in forma che sia la stampabile in maniera economica un po per tutti io vorrei volevo fare vedere diciamo quello quello prima semplicemente per far vedere come sarà il preordine che è diverso dalla versione che ci sarà poi in print on demand su su amazon quindi ci saranno le fascette di una copertina abbastanza diciamo curata questo è quello prima sono 450 pagine quindi fatevi un'idea all'interno poi è illustrato anche con dei simboli con della grafica tutto il lavoro di di mala ed ecco insomma master siamo bravi a parlare ma non è previsto che teniamo una penna in mano esatto volevo anche citare se penso che sia questo il momento giù ecco sono un po di un po di arte un po di illustrazioni così per allargare un po il testo però sono poi è veramente un mattone di quanto è che pesa questo qui ma l'avevo pesato un po di tempo fa era quasi mezzo chilo mezzo chilo di manuale esatto non ti dico che un chilo però se no moriamo a spedirlo però sotto tra il mezzo chilo e un chilo volevo anche citare tutte le persone che hanno contributo cioè non le citerò per nome ecco dirò che una ventina di professionisti del settore autori appassionati streamer youtuber così di vario tipo ci hanno come dire aiutato con regalandoci del materiale diciamo che abbiamo inserito all'interno dei contributi particolari ora per non fare torto a nessuno non li citerò però ecco si parla di una ventina di persone sia del mondo del libro game che del gioco di ruolo che appunto con degli approfondimenti legati che abbiamo scelto diciamo un po legati al loro ambito per cui sono più esperti hanno ci hanno dato un po di materiale aggiuntivo su cui riflettere in modo tale che non sia soltanto il lavoro di roberto e di mauro che se la chiacchierano sul gioco di ruolo ma ci siano anche dei punti di vista più variegati si poi dato che voi sapete chi siete potete citarvi sotto nei commenti ovviamente così non facciamo tanto troverete poi in descrizione anche i link e poi in mente link a futuri video perché sicuramente porteremo avanti sto progetto anche dopo tra l'altro dovreste trovare in questo momento non è ancora pronto ma in descrizione poi quando il video verrà pubblicato troverete abbiamo fatto una piccola splash page dedicata al progetto dove probabilmente troverete anche altro ma tutto quello che non siamo riusciti a mettere nel libro per motivi di spazio quello dicevamo poi in mente lo metteremo poi direttamente come free sulla splash page del libro e diciamo che adesso non tiriamo la troppo per le lunghe perché tanto le risposte quelle importanti ve le abbiamo date nel caso abbia tante domande scrivete poi tutto nei commenti qui sotto risponderemo volta per volta e probabilmente troverete un altro video sul canale di mauro dove parliamo di un libro anche lì vi lascio un link anche a quello se dovete avere altre domande diciamo che in questo momento in cui vedete questo video sarà già stato essendo avuto pubblicato quando lavoriamo dobbiamo pensare quadrimensionalmente e fatto che faccia un caldo micidiale non aiuta comunque grazie mauro grazie Mala per essere intervenuti ciao grazie a te se avete domande, dubbi, perplessità come sempre scrivete anche quelle dei commenti di sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che potrà crescere il canale io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao